Live! Siamo in diretta! Eccoci qui! Buon pomeriggio a tutte, benvenuti all'interno di questa diretta. Allora, questa sarà una diretta molto veloce, molto diretta, perché devo comunicarvi cosa bolle in pentola, devo darvi un po' di notizie, ma sarà appunto una diretta molto 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 veloce. Allora, 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 come avete potuto forse già vedere, le nostre clienti sono avvantaggiate perché già hanno capito tutto, già si sono prese il loro posto, già hanno fatto tutto, però giustamente per chi è al di fuori e non è all'interno del metodo FESPA, a proposito di me, vi devo dire una cosa, vi devo dire una cosa prima che mi dimentico. Allora, presentazione molto veloce, Federica, educatrice alimentare e personal trainer, autrice di molteplici libri. Ascoltatemi bene perché questo libro qui non è più disponibile, questo libro qui, perché è al posto di questo libro qui, non c'è questo, aspettate, non è questo, c'è questo qui, non è una dieta, il metodo FESPA. Ora, la prima persona che mi dice ma com'è fatta questa dieta, anche con la voce così, perché io vi immagino così, leggete il libro, non è una dieta, non si legge, c'è l'effetto, vabbè, lo metto così, ok? Non è una dieta, il metodo FESPA. Dovrebbe essere chiaro adesso e che cavolo, ok? È creatrice di protocollo guerriera vincente e tanti altri percorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, come avete potuto notare, oggi è stato fatto un post un po' particolare, dove è stata annunciata una data, 11 luglio 2022, ore 21. Che cosa succederà l'11 luglio alle ore 21, ore italiane ovviamente? Beh, dopo mesi di lavoro, insieme al team di Guerriere in Forma, abbiamo deciso che è raggiunto ormai il tempo, è raggiunta l'ora di fare un attimo chiarezza su tutto quello che vi propinano ogni giorno in termini di diete, piuttosto che pillole, piuttosto che beveroni, piuttosto che pasticche, piuttosto che tutto quello che vi propinano ogni giorno, drenanti, prodotti detox, pilloline magiche, la dieta monoalimento, la dieta dell'estate, tutte queste cose qui, fare un po' di chiarezza e spiegarvi un paio di cose che adesso non voglio spoilerarvi. Pian piano in questi giorni vi darò delle piccole anticipazioni, ma adesso non voglio spoilerarvi. Semplicemente per tutte quelle donne che vogliono dimagrire senza diete, senza calcolo calorico, senza calcolare i macronutrienti, senza pesare gli alimenti, senza seguire una dieta rigida e restrittiva, senza prendere le pilloline e i beveroni, per tutte quelle donne che vogliono essere in forma, vogliono dimagrire, vogliono tonificare, vogliono perdere 20 chili, oppure ne vogliono perdere 30, oppure ne vogliono perdere 3, 5, 6, 2, per tutte quelle donne che vogliono essere in forma e lo vogliono fare senza diete, senza pillole, senza applicazioni conta calorie, oppure applicazioni conta macronutrienti, senza tutte queste cose qui, allora potete registrarvi, prendervi il posto per quello che sarà l'evento di lunedì 11 luglio alle ore 21. Per tutte le altre che vogliono dimagrire con le diete, con i bibitoni, con le pillole, vogliono prendere le gocce, vogliono prendere i prodotti detox, non vi registrate, non prendete il vostro posto perché non è per voi la lezione che terrò in diretta l'11 luglio, quindi registratevi perché l'11 luglio ne vedrete, ne sentirete delle belle. Questo evento è anche per tutte quelle donne che sono state magari rifiutate e quindi non hanno avuto accesso a protocollo guerriera vincente, al metodo FESPA, sia perché non rispettavano i requisiti, sia perché il percorso, come vi dico sempre, i nostri percorsi non sono per tutti, hanno un costo che non è sostenibile per tutte, ok? Quindi per tutte quelle donne che non hanno avuto accesso ai nostri percorsi per via del costo o perché non rispettavano i requisiti, la lezione è anche per voi e scoprirete il perché. Quindi andate su ladietanondieta.com e registratevi, andate su ladietanondieta.com e registratevi, ok? Tramite email vi arriverà il link per accedere alla diretta di lunedì 11 luglio alle ore 21 e insomma ne vedrete delle belle. Come mi scrivo, come si fa a registrarsi? Pinella e non so quest'altro nome, non so chi tu sia perché non mi esce il nome su Facebook, vi basta scrivere digitare su Google ladietanondieta.com e vi registrate, poi li trovate le informazioni per registrarvi all'evento, ok? Quindi mi raccomando venite a conoscere ladietanondieta, venite a sentire quello che ho da dirvi, quello a cui abbiamo lavorato in questi mesi, per rendervi libere da diete, pillole, beveroni, cosa che già facciamo con il metodo Fespa ma scoprirete poi, scoprirete poi e liberarvi da tutto, app conta calorie, macronutrienti, bilancia, pillole, beveroni, goccine, tutte queste cose qui. Registratevi e poi insomma vedrete, vedrete cosa bolle in pentola, poi non vi potete lamentare, non potete più dire però io non capisco, però io non sono stata aiutata ai requisiti, bla bla bla. Allora salutiamo un po' di donne, ci sono domande intanto? Ciao Viviana, ciao ciao, buongiorno, ciao ciao a tutte, salve, come mi scrivo? Ho risposto, buongiorno Federica, oggi è il mio primo giorno, grande Angela, benvenuta tra le guerriere vincenti, brava, complimenti per aver mosso il primo passo nonostante l'estate. Azione nonostante il periodo estivo, brava, brava, brava. Avevo letto una domanda qui su Instagram, ciao mia mamma in menopausa, cosa puoi evitare per il gonfiore? È una domanda troppo specifica e non posso rispondere perché non conosco tua madre, non so che alimentazione porta avanti, non so se fa attività fisica, non conosco il suo passato alimentare, non conosco il suo passato sportivo, non so se è un atleta, non conosco i suoi obiettivi, non so la sua situazione di partenza, non conosco la sua percentuale di massa grassa, il suo peso, la sua altezza, non ho tutti i dati che mi servono per rispondere a questa domanda, quindi cosa può fare per il gonfiore? Tante cose bisogna capire, è un gonfiore che proviene dall'alimentazione, alimentazione sbagliata, è un gonfiore che magari nasce dal caldo, perché anche con il caldo ci si può gonfiare, è un gonfiore che nasce da cause fisiologiche oppure sono cause patologiche, quindi ci sono delle patologie, insomma è un discorso come puoi immaginare veramente complesso e se non ho un quadro specifico e dettagliato, un'anamnesi dettagliata della persona in questione non posso darti quella che è una risposta. Ci sono vari video gratuiti dove ho parlato della menopausa, dove ho parlato del gonfiore, poi ci sono anche dei programmi a pagamento come Fespa Academy edizione menopausa, dove vengono trattate tutte le varie problematiche, tutto quello che può ecco dipendere da questa fase fisiologica della vita di ogni donna, ma trovi anche contenuti gratuiti. Ah e oltre c'è anche il libro Bella e Soda in menopausa dove parlo anche di questo. Allora quindi 11 luglio 2022 alle ore 21 alle 9 italiane preparatevi la dieta nondieta.com registratevi perché ho tantissime cose da dirvi e finalmente potrete mettere da parte le diete rigide, le pillole, beveroni, la bilancia pesa alimenti, app conta calorie, app per contare i macronutrienti. Potrete mettere da parte tutto ciò ed essere in forma senza tutto questo e non dico altro perché altrimenti parlo troppo e va a finire poi che vi dico tutto. Questo anche per chi è già nel percorso? Sì, è anche per chi è già nel percorso e anche per voi. Sì. Ok, ci sono altre domande in merito? Nel frattempo mettete un cuoricino a questa diretta, un like, condividete, iscrivetevi al canale YouTube. Registratevi, registratevi perché io non ce la faccio più, io non so voi ma io non ce la faccio più di tutte queste persone che vi fanno cucinare la pasta, poi ve la fanno sciacquare perché dovete togliere il sale, perché vi dicono che il sale vi fa uscire la ritenzione idrica, oppure perché vi dicono che il sale fa ingrassare ma quando mai il sale non ha caldo, vabbè, lasciamo stare questo. Oppure insomma vi fanno fare tutte queste cose assurde, tutte queste pazzie e non ce la faccio più, non ce la facciamo più a sentire di queste donne che ci dicono queste cose, di sciacquare la pasta, di sciacquare le verdure, di mangiare senza sale, poi si lamentano che hanno la ritenzione idrica, cosa del tutto normale perché il nostro corpo vive in un continuo e costante equilibrio, omeostasi, in omeostasi, che cosa significa? Che il nostro corpo vive in un equilibrio costante e capite bene che se voi passate dal mangiare salato all'eliminazione totale del sale, perché magari seguite un metodo dove vi inculcano che il sale fa uscire la ritenzione piuttosto che il sale fa uscire la cellulite, che la cellulite con il sale c'entra ben poco perché la cellulite dipende da un accumulo di tessuto adiposo principalmente, da problematiche di circolazione, ma non ne parliamo adesso altrimenti inizio il mio sproloquio e non ne usciamo più e quindi nel momento in cui togliete il sale dalla vostra alimentazione piuttosto di vedere un miglioramento della ritenzione vedete che vi gonfiate perché perché state togliendo un elemento fondamentale per il vostro corpo, perché è vero che il sale va limitato, è vero che non possiamo mangiare grammi e grammi e grammi e grammi di sale, ma è anche vero che il sale comunque non deve mancare all'interno della vostra alimentazione quotidiana, ok? E quindi insomma non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, dobbiamo assolutamente mettere una fine a queste cose il panorama italiano del fitness verrà completamente come dire rifatto non so come spiegarmi non mi viene il termine in questo momento resteranno tutti così per quello che abbiamo da dirvi l'undici luglio alle ore 21 verrà smantellato non mi viene il termine possiamo accedere già adesso potete registrarvi potete registrarvi per ricevere il link ma ovviamente la lezione sarà in diretta l'undici luglio alle ore 21 quindi la lezione la vedrete l'undici luglio non adesso ciao federica io sono roberta aspetto il percorso che mi devi fare non vedo l'ora di iniziare anche se mettono un po paura le app perché sono imbranata non ti preoccupare roberta non ti preoccupare lo strumento è solo iniziale dopo di che sei libera assolutamente io ho seguito per tre mesi una dieta senza sale usavo le spezie per compensare adesso per me tutto troppo saporito il sale angela mamma mia tre mesi senza sale il sale è importante per il nostro corpo e nel momento in cui viene meno il nostro corpo attiva un campanello d'allarme questo campanello che cosa fa manda in allarme il nostro corpo e gli dice e vedi che qui mi manca un tassello immaginate il nostro corpo come se fosse un puzzle un puzzle enorme grandissimo no voi per concludere un puzzle dovete mettere insieme tutti i pezzi se non mettete tutti i pezzi non potete concludere il puzzle e quindi ce l'avete come dire incompleto anche il nostro corpo funziona così è un puzzle e noi dobbiamo avere ogni giorno tutti i tasselli di questo puzzle messi al proprio posto quindi dobbiamo avere l'acqua il sale la pasta piuttosto che il pane quello che vi va come fonte di carboidrato la carne il pesce le uova tofu seitan per tutte le donne vegane o vegetariane insomma dobbiamo avere tutto le vitamine sali minerali tutto dobbiamo mettere tutto perché se no il nostro corpo va in allarme e mette in atto dei meccanismi particolari di difesa no per compensare quella mancanza che portano a vari squilibri ad esempio l'eliminazione del sale porta ad avere più ritenzione idrica e uno potrebbe dire ma com'è possibile questa cosa qui è possibile perché non vi è il sale il corpo va in allarme si attivano tutta una serie di processi che prendono dei nomi che sono particolarissimi e difficilissimi e quindi ecco che il corpo come risposta ci dà la ritenzione idrica questo per parlarvi del sale immaginate quando eliminate i carboidrati che cosa succede quando eliminate i grassi perché pensate che facciano ingrassare o quando non mangiate bene che cosa succede vi lascio immaginare no la notizia di oggi in che senso non ho capito non ho capito cosa significa ah ecco teresa sei tu adesso leggo il tuo nome allora teresa la notizia di oggi è questa qui quindi che l'undici luglio alle ore 21 ci sarà una lezione ci sarà la presentazione di un nuovo programma all'interno di guerriere in forma ma sarà anche una lezione dove parliamo un po' non posso dirlo di cosa però insomma registratevi per vedere ciò di cui parleremo l'undici luglio alle ore 21 registratevi solo se siete delle donne che vogliono dimagrire senza dieta senza calcolo calorico senza conteggio dei macronutrienti senza utilizzare la bilancia senza star lì ad eliminare degli alimenti eccetera eccetera se al contrario volete la dietina rigida volete pesare gli alimenti volete la dieta del monoalimento non vi registrate perché non fa per voi ve lo dico in anticipo altrimenti poi vi registrate ci rimanete male che non vi ho parlato della dieta rigida del momento ve lo sto dicendo da prima non arrivate l'undici luglio ah ma io mi aspettavo una dieta rigida no ok che relazione c'è tra anoressia e gonfiore addominale il gonfiore addominale può essere assolutamente una conseguenza ma può dipendere anche da altri fattori non solo da questo disturbo del comportamento alimentare le cause del gonfiore sono veramente tantissime ok e anche le intolleranze alimentari possono portare ad avere gonfiore addominale intolleranze alimentari solo glutine e lattosio e tutto il resto non esistono altre intolleranze ok quindi si può esserci una relazione perché ovviamente avendo un disturbo del comportamento alimentare che ti porta a mettere in atto delle azioni ci sono sempre degli squilibri e possono portare ad avere il gonfiore addominale così come può dipendere da altri fattori e quant'altro noi non ci occupiamo di disturbi del comportamento alimentare qualsiasi cosa mangio bevo mi gonfio può dipendere anche da come mastichi il cibo se mastichi troppo velocemente oppure se tendi a ad ingurgitare il cibo parlo in generale non sto parlando di te nello specifico anche da lì può esserci può dipendere il gonfiore addominale no aerofagia anche ingoiare aria mentre mangi ma comunque le cause possono essere veramente veramente tante poi avere un po di pancia gonfia dopo aver mangiato è normale dopo mangiato non si può pretendere di avere la pancia piatta che sia magari al mattino è assolutamente normale io voglio registrarmi per l'undici luglio la dieta punto com e vi potete registrare la dieta non dieta punto com perdonatemi e vi registrate a questa vi registrate insomma all'evento sto cercando di registrarmi ma su google mi esce altro allora devi scrivere la dieta non dieta punto com tutto attaccato e ti esce quella che la pagina per registrarsi se non dovesse uscirti clicca dopo sul link in bio verrà aggiornato dopo questa diretta verrà aggiornato verrà messo il link clicca sul link in bio e ti registri da lì ok mamma mia che caldo grazie federica buon pomeriggio ciao francesca ciao federica grazie due consigli sono molto importanti grande giulia ciao infatti il problema di gonfiore addominale e sono celiaca esatto quando c'è di mezzo una un'intolleranza in questo caso parliamo di malattia celiaca e non di intolleranza quando c'è di mezzo la malattia celiaca o l'intolleranza al lattosio che sono le uniche chiamiamole intolleranze per capirci intolleranze anche se quella al glutine non è un'intolleranza ma è una malattia celiaca vabbè sorvoliamo quando parliamo di queste due intolleranze che sono le uniche due riconosciute dalla medicina moderna tutto il resto è fuffa tutti quei test che fate in farmacia o che fate in ospedale e vi dicono che siete intolleranti al salmone ai piselli alle uova al non lo so al pesce spada al pomodoro sono fuffa sono fuffa non è vero ok sì sì tu sei allergia sei sei intollerante vabbè comunque tutte le donne che presentano intolleranze è normale che possano essere più gonfie possano soffrire maggiormente di gonfiore addominale ok poi ovviamente se parliamo di allergia le allergie possono essere appunto alle uova possono essere alla frutta secca possono essere può esistere un allergia al pomodoro può esistere un allergia ad un alimento in particolare ma intolleranza e allergia sono due cose completamente diverse completamente non sono la stessa cosa voi non sapete quante donne che seguiamo che prima di iniziare il metodo fespa protocollo guerriera vincente erano convinte di essere intolleranti al pomodoro o di essere intolleranti al lievito non esiste l'intolleranza al lievito attenzione non esiste l'intolleranza al lievito oppure intolleranti a qualsiasi altra cosa che non fosse ovviamente lattosio o malattia celiaca nel momento in cui ho scritto loro guarda che non esiste l'intolleranza al salmone guarda che l'intolleranza alla banana non esiste non sei intollerante ad un alimento cioè non sei intollerante a tutta sta caterba di alimenti che ti hanno dato ok hanno inserito questi alimenti nella propria alimentazione si sono rese conto che non erano intolleranti diversa è l'allergia ovviamente ok no ve lo dico perché ci sono anche le diete delle intolleranze o la dieta del gruppo sanguigno una una scemenza dopo l'altra e per chi stesse dicendo ma io quando mangio la pizza mi gonfio ma ragionaci un attimo però a parte il fatto che il lievito quando lo inserisci nel forno ad una temperatura così alta muore 1 2 se sei gonfia dopo che hai mangiato una pizza è perché come come era fatta quella pizza cosa c'era sopra c'era il prosciutto crudo con le patatine fritte era una pizza molto farcita è normale che sei gonfia dopo hai mangiato la pizza più il dolce più la birra è normale che sei gonfia ma non è il lievito è proprio che hai mangiato e quindi sei gonfia poi la pizza è un alimento altamente calorico e altamente salato non c'è nulla di male a mangiare una pizza voi lo sapete metodo fespa libertà alimentare ti puoi mangiare la pizza anche ogni giorno te la puoi mangiare anche ogni giorno ok e comunque dimagrire ma qui poi entra in gioco il discorso di qualità dell'alimento un conto è mangiare un piatto di pasta con del pomodoro con non lo so del macinato ok di carne e dell'olio d'oliva un conto è mangiare una pizza sono due cose completamente sono due alimenti che sono diversi tra di loro non entriamo in questo argomento altrimenti non ne usciamo più quindi che cosa stavo dicendo non mi ricordo se qualcuna di voi mi ricorda infatti queste cose sono solo bugie mi hanno trovato intolleranza al pistacchio ananas solo bugie esatto rocchina esattamente e sono dei test che voi trovate in farmacia o che vi vengono proposti in ospedale cioè non sono in dei test poi poi quando uno dice no ma online è una truffa ti stanno truffando in farmacia e non te ne rendi conto cioè ci rendiamo conto sveglia sveglia usciamo da quest'idea che sono truffe le persone che vedete online e che non potete vederle dal vivo parlo per me poi gli altri metodi beh vi fanno eliminare il sale quindi insomma ok comunque tralasciando ciò sì non esiste questa intolleranza al pistacchio all'ananas e quant'altro mamma mia che tristezza ah ecco che stavo dicendo quindi nel momento in cui voi vi gonfiate dopo aver mangiato una pizza oppure vedete che eliminate il glutine e vi sgonfiate non è per una questione di intolleranza al glutine o intolleranza al lievito è che probabilmente avete migliorato la vostra alimentazione e non mangiate più male come prima i prodotti senza glutine vanno bene per chi ha la malattia celiaca non per chi non è intollerante e quindi non presenta la malattia celiaca ci siamo ci siamo ci arriviamo fin qui cioè non pensate che senza glutine faccia dimagrire senza glutine alle stesse calorie se non di più perché contiene più grassi della pasta normale anche quella lievito è una bugia il lievito muore nel forno a 70 gradi non esiste intolleranza al lievito tutta sta come si prepara l'impasto maturazione e lievitazione esattamente l'ho detto prima lo dice anche rocchina esattamente l'intolleranza al lievito non esiste il lievito muore muore si esatto pensate che prima del percorso mi ero recata in farmacia a fare il test di intolleranza in pratica non potevo mangiare nemmeno l'aria ero intollerante a tutto ovvio non avevo un equilibrio alimentare intanto ti offrono la dietina da fame per poi ti rendi conto che è insostenibile l'intolleranza sono un disequilibrio alimentare grazie al percorso benissimo informissima esatto esatto no le intolleranze esistono quella lattosio e la malattia celiaca esistono tutte le altre no tutti i test farlocchi che vi fanno in farmacia ma anche in ospedale li fanno questi test non hanno una validità scientifica e ho anche dedicato una diretta proprio alle intolleranze dove vi nomino anche quelli che sono i vari test che vi propinano con tutti i vari nomi possono cambiare nome possono cambiare come dire faccia ma il il discorso non cambia quelle intolleranze sono sempre due quando la medicina moderna e se la medicina moderna scoprirà una nuova intolleranza ecco che allora potremmo accettarne tre ma per il resto sono due per ora da quando faccio i tre turni non riesco a leggere da quando faccio i tre turni al lavoro non sono più riuscita a controllare il mio peso di notte ad una certa ora viene fame dormo quando devo mangiare mangio quando dovrei dormire adesso che sei dentro al percorso non avrai di questi problemi angela tranquilla lattosio glutine favismo non ho lattosio e glutine basta soffro di colon irritabile sempre un grande confiore addominale è normale latte vegetale va bene se sia l'intolleranza lattosio quale consiglierebbe grazie sì assolutamente se hai un'intolleranza lattosio assolutamente latte vegetale tranquillamente latte di mandorla soia piuttosto che anche quello senza lattosio ma in alcuni casi perché poi anche i sintomi delle intolleranze possono essere diversi no ci sono alcune persone che riescono a tollerare il latte senza lattosio anche appunto essendo intolleranti al lattosio ma ci sono anche delle donne o degli uomini a prescindere dal dal sesso che non riescono a tollerare neanche il latte senza lattosio e quindi qualsiasi anche una piccolissima quantità di lattosio può creare loro dei fastidi quindi sì assolutamente bevande vegetali assolutamente ok e mi raccomando se non siete intolleranti al lattosio bevete il latte con il lattosio a meno che voi non siate vegane o vegetariani ok ma bevetelo perché rischiate di diventare intolleranti se non bevete il latte con il lattosio perché il il vostro corpo non utilizza più l'enzima che va a distruggere il lattosio che lo zucchero del latte quindi rendendo inattivo vabbè mo 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 sembra che sto parlando arabo per la maggior parte delle donne che mi seguono però non fa niente ormai ho aperto l'argomento quindi ve lo dico se il vostro corpo non è abituato più a smaltire a degradare lo zucchero del latte il lattosio ecco che poi diventate tra virgolette intolleranti al lattosio perché il vostro corpo non lo non sa distruggere più quella quello zucchero che gli arriva ok guardate quante informazioni che vi sto dando meno male che doveva essere una diretta veloce sono in diretta da 35 minuti quasi e vi sto dando tutte queste informazioni quindi condividete questa diretta iscrivetevi al canale seguite la pagina su instagram condividete mettete un like un cuoricino condividete questa diretta per tutte queste informazioni che vi sto dando il mio problema è la costanza perché mi viene da mangiare cose che mi fanno male il pane soprattutto anche i formaggi né il pane nei formaggi fanno male ti hanno risposto anche il mio team ti ha risposto anche con la mia pagina non fanno male né il pane nei formaggi ovviamente vanno bilanciati vanno equilibrati ma nessun alimento ho preso singolarmente fa ingrassare fa dimagrire fa male tutti gli alimenti fanno bene se assunti nella giusta quantità è normale che se ci mangiamo ogni giorno vi mangiate ogni giorno un chilo di formaggio e un chilo di carne rossa è normale che nel lungo periodo avrete problemi a livello problemi problematiche a livello cardiocircolatorio quindi potreste avere infarti ictus bla 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 ok ma è sempre la dose che fa il veleno mai il singolo alimento il singolo giorno in cui mangiate quell'alimento e quant'altro ok uscite da questa paura degli alimenti uscite da questa paura del cibo da questa paura che esistono degli alimenti che fanno bene degli alimenti che fanno male per uscirne e quindi per essere in forma eliminando questa visione di cibo buono cibo cattivo vi è protocollo guerriera vincente il nostro percorso di rieducazione alimentare online coaching personalizzato all'interno del quale vi insegniamo il come mangiare non il cosa quindi come mangiare vi insegniamo a nutrirvi secondo le vostre esigenze le vostre voglie e ad essere in forma appunto attraverso un'alimentazione che sia flessibile libera e soprattutto sostenibile nel lungo periodo anche attraverso l'acquisizione di un equilibrio un equilibrio alimentare perché senza un equilibrio alimentare non si va da nessuna parte e inoltre vi ricordo iscrivetevi alla lezione dell'11 luglio alle ore 21 la dieta non dieta.com registratevi perché vi devo dire un bel po di cosine cosa pensa della dieta ketogenica una dieta insostenibile una dieta che non ha assolutamente senso in quanto ti consente di perdere liquidi e non è sostenibile a lungo perché dopo un po appunto diventa insostenibile il tuo corpo ha bisogno dei carboidrati il tuo corpo ha bisogno delle proteine il tuo corpo ha bisogno dei grassi il tuo corpo ha bisogno della frutta della verdura di tutto e per questo motivo quello che devi fare è seguire un'alimentazione bilanciata equilibrata personalizzata per quelle che sono le tue esigenze specifiche e i tuoi obiettivi ma la dieta ketogenica è come la dieta del minestrone piuttosto che la dieta del beverone piuttosto che la dieta dell'ananas insostenibile nel lungo periodo e soprattutto non ti lascia niente nel senso che al termine della dieta ketogenica magari hai perso i chili che volevi perdere quindi magari hai perso 5 chili 7 chili 10 chili hai perso i chili che volevi perdere ma non ti resta nulla non hai un'educazione alimentare non hai raggiunto un equilibrio alimentare non sei uscita dalla visione di cibo buono e cibo cattivo e quindi ecco che al termine della ketogenica torni a mangiare come prima e i chili che hai perso con tanto sacrificio rinunciando alle uscite fuori con tuo marito col tuo compagno con le tue amiche ritornano praticamente tutti nel giro di un mese due mesi anche anche un mese in realtà in alcuni casi un mio amico che mi ha sempre detto devi mangiare tutto solo in piccola porzione dipende dipende perché le porzioni piccole che cosa si intende per porzione piccola cosa intendiamo 30 grammi di pasta e ma 30 grammi di pasta manco per sporcare la pentola le porzioni le quantità dipendono da soggetto a soggetto e non è vero che per dimagrire devi mangiare meno o meglio indubbiamente deve esserci alla base un deficit calorico su questo non ci piove ricordiamoci che il metodo FESPA è un metodo scientifico che si basa su principi fondamentali del dimagrimento dell'aumento di peso del mantenimento in base a quello che è l'obiettivo perché con il metodo FESPA non ci rivolgiamo solo a chi deve dimagrire 40 chili ma ci rivolgiamo anche a quelle donne che devono perderne 2 3 5 10 1 quelle donne che vogliono tonificare vogliono aumentare di peso vogliono aumentare la massa muscolare ok quelle donne che rispettano i requisiti che richiediamo e che hanno degli obiettivi tonificazione e quant'altro quindi è vero che alla base deve esserci un deficit calorico sicuramente avete sentito questo termine ma attenzione perché non significa deficit calorico non significa faccio la fame e quindi mangio poco mangio porzioncine così di pasta porzioncine così di secondo il tutto deve essere contestualizzato personalizzato in base alle esigenze della persona io mangio molto più di prima di quando facevo la fame non perdevo un grammo e ottengo risultati prima io ma così come anche tutte le nostre guerriere che seguiamo io mangiavo probabilmente parte i carboidrati pochissimi probabilmente veramente 30 grammi di riso e magari oppure la fettina di pane minuscola e poco secondo poco contorno poche salse poco condimento e non perdevo un grammo adesso che mangio il triplo rispetto a prima se non il quadruplo perdo grasso quindi piccola porzione in base a cosa dipende nel caso di delle donne che seguiamo ma anche nel caso di molte donne anche quelle che stanno guardando questa diretta e non sono all'interno del metodo fespa credimi che mangiano molto di più rispetto a prima e le porzioni piccole non sanno manco più che cosa significa ok perché dipende è una cosa troppo soggettiva ma sicuramente per dimagrire ed essere in forma non bisogna fare la fame non bisogna mangiare poco perché non è sostenibile ok allora questa diretta è durata anche più del previsto quindi io vi saluto ci vediamo nella diretta di domani sempre alle 16 e 30 mi raccomando registratevi la dieta non dieta.com registratevi evento in diretta 11 luglio ore 21 un sacco di cose che vi devo dire mi devo dire un sacco di cose mi sono distratta nel leggere quelli che sono i commenti io prima di iniziare perché non mangia quasi niente non perdevo nemmeno un grammo oggi mangio tutto e ho perso centimetri e chili anzi ultimamente sto mangiando tantissimo è esatto stai mangiando tantissimo esattamente paola ok quindi ci vediamo domani in diretta nel frattempo registratevi all'evento dell'11 luglio alle ore 21 in diretta la dieta non dieta.com ci vediamo domani ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti